buongiorno a tutti oggi cominciamo una rubrica che speriamo possa essere fertile che riguarda gli scrittori del nostro settore oggi presentiamo il nuovo libro di maurizio badiani ma solo ed esclusivamente per una combinazione io conosco maurizio da tanti anni ho lavorato con lui tanti anni è stato un importante direttore creativo avrà modo di raccontarsi e ha scritto questo libro avrei da ridire che ci ha gentilmente inviato quindi ci piacerebbe condividere con voi questi queste tracce di memoria e magari nelle prossime puntate potremo condividere delle tracce di presente quindi una rubrica nuova che speriamo di aggiungere al piacere di vedere questa newsletter ciao maurizio questo è il tuo secondo libro naturalmente parlerà di pubblicità beh sì ho fatto passato oltre 40 anni diciamo nelle scienze di pubblicità e quindi l'argomento principale diciamo è quello però il sottotitolo del libro è divagazioni su pubblicità e dintorni e in quei dintorni ci stanno anche altri temi come per esempio il cinema che è stato una delle mie grandi passioni e da cui sono partito come l'arte che è stata una compagna di vita molto importante per me e infine argomenti anche di attualità anche abbastanza crudi diciamo così come la vita e la morte che i covide ci ricorda sono due grandi protagonisti del parcoscenico della storia e per ultimo ho trattato un argomento che mi sta molto a cuore che tanto mi intriga e mi sorprende e che è quello della stupidità umana quest'ultimo è un pozzo senza fondo e si direi proprio di sì c'era albert einstein diceva due sole cose sono infinite l'universo e la stupidità dell'uomo e aggiungeva e sul primo ho ancora qualche dubbio era un genio anche nello humor senti cosa ti ha spinto a scrivere questo libro diciamo che il libro si è un po scritto da solo nel senso che negli ultimi tempi ma anche soprattutto a causa del covid diciamo il tempo si è allungato abbiamo avuto più tempo a disposizione per riflettere su cose magari sulle quali non avevamo mai riflettuto e così ho fatto anch'io quindi via via di giorno in giorno ho buttato giù delle cose o riflessioni diciamo indotte da qualche fatto di cronaca o da ricordi che magari affioravano nella mente era specie di venuto fuori una specie di di diario non voluto e alla fine ho pensato che non fosse giusto buttarlo via quindi ho raccolto quello che mi è sembrato fosse più significativo e l'ho sistematizzato in in questo in questo libro dividendo diciamo il libro in vari temi ognuno dei quali è preceduto da una frase di un personaggio famoso immagino però che la pubblicità la faccia la padrona beh per forza di cose diciamo è la parte più che ha avuto più più spazio come ti dicevo passato precisamente 44 anni in pubblicità sono stato direttore creativo e membro di direzione di agenzie come importanti come la tomso la mccain la pubblicis l'ultima è stata espansio un gruppo di cui sono stato il socio e 42 di queste agenzie la mccain e la pubblicis quando allora era pubblicis fcb mac erano le più grandi agenzie italiane del numero uno prima la mccain poi dopo l'altra diciamo la superola l'agenzia americana è tipo immaginare così tanta frequentazione così lunga di quel mondo quante cose diciamo così ho visto e sentito ho visto cose che voi umani diceva replicante di bled runner no ecco diciamo quelle che ho potuto raccontare mi sembra più giusto farlo e anche perché restasse una memoria una testimonianza di di cose che una volta che la mia generazione è sparita insomma e visto siamo lì di certe cose si perderà memoria non a caso i giapponesi tutelano diciamo i grandi vecchi così come tutelano monumenti perché i vecchi sono degli scrini di ricordi e a volte anche di tecnica no che sono cose che si possono tramandare alla generazione futura anche perché la pubblicità che hai conosciuto tu che hai fatto da protagonista era molto diversa da quella di oggi beh sì diciamo il meglio o il peggio di quello che ho espresso lo spesso per esempio degli anni 80 quelli che considero penso siano considerati da tutti gli anni d'oro della pubblicità italiana fino a poco tempo fa la pubblicità era pubblicità a una via oggi è a due vie oggi la pubblicità nella pubblicità c'è più scienza diciamo così più tecnica di quanto non ci fosse solo 10 o 15 anni fa oggi gli algoritmi hanno lo stesso peso diciamo dei neuroni e io francamente con la matematica non sono mai andato troppo d'accordo visto che al liceo e non liceo ma liceo soprattutto infilavo sfizzate di sulla pagella di 34 a matematica e fisica mentre avevo rigorosamente 10 in disegno e 89 in storia dell'arte quindi diciamo che la frequentazione del mondo delle immagini è stata quella che mi ha portato abbia spinto ad accostarmi alla pubblicità oltre al ma le mie esperienze di filmmaker di del cinema che ho praticato appunto prima di entrare in pubblicità vedo anche che il libro ha una bellissima copertina di ugo nespolo si è ugo oltre a essere un artista di fama internazionale conosciuto da tanti è un carissimo amico ci siamo conosciuti durante quella che io chiamo scherzosamente la campagna di francia un anno e mezzo di lavoro in defesso per il lancio di quella che allora in gergo o in termini diciamo crittato in codice si chiamava x 0 6 e poi diventata famosa come twingo abbiamo lavorato moltissimo insieme quella 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 quel tempo ha prodotto una serie notevole di bozzetti e un'amicizia che appunto dura solida che dura tuttora scorrendo l'indice scopero che nel libro ci sono vari ritratti dedicati ad alcuni grandi della pubblicità e non solo della pubblicità sì la pubblicità fatta a certi livelli e io ho avuto la fortuna l'onero l'onore l'onere diciamo di farla a livelli alti ti permette di conoscere persone di di assoluto livello personaggi di notevoli e quindi in tanti anni molti ne ho conosciuti ho dedicato perciò a queste alcune pagine per esempio enzo baldoni con il quale ho diviso per oltre un anno ufficio agenzia a firenze berlusconi di cui racconto un aneddoto molto curioso e che conosciamo ormai penso di una manciata di persone gerry scotti che allora si chiamava virginio scotti e con cui ho lavorato in mcken ugo tognazzi a cui dedicato altre pagine con il quale ho avuto grande attore un po ha avuto una lunga frequentazione professionale filip d'averio con il quale ho condiviso la passione grande affibulatore diviso la passione per per il mondo dell'arte roberto rossellini che ho conosciuto in gioventù e che fu a suo tempo prodigo nei miei confronti in quei dei miei compagni diciamo di avventure di allora di generosi consigli billy davis il compositore nero che ha scritto tutti i più memorabili jingle della coca cola e con il quale appunto lavorato a lungo quindi a questi personaggi siamo dedicato volentieri delle delle pagine anche affettuose visto che ho gli ho conosciuti in maniera diretta in alcuni casi racconto anche dei piccoli segreti che non ho mai svelato a nessuno che nessuno può sapere se non leggendo il libro e bunga bunga a sentirti parlare penso che verrà voglia di leggere il tuo libro ma dove si trova questo libro ballo su amazon su amazon sia in forma cartacea che non a un prezzo decisamente politico come si diceva una volta nel 68 compagno a bagliani grazie maurizio è stato un piacere rivederti e speriamo che questo libro piaccia a tutti quanti come è piaciuto a me ma me lo auguro ringrazio te naturalmente e coloro che eventualmente leggeranno il libro grazie 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 dell'ospedalità ciao ciao un abbraccio